L'AMAP, Agenzia Marche Agricoltura Pesca, ha avviato l'azione preventiva contro l'espandersi del tarlo asiatico del fusto, insetto infestante per garantire la salvaguardia del patrimonio arborio regionale e da tutela delle imprese economiche del settore florovivaistico. L'azione di AMAP prevede la ripiantumazione di nuovi esemplari vegetali non attaccabili dall'organismo nocivo dopo aver provveduto all'abbattimento o alla distruzione delle piante ormai compromesse. È una situazione che merita il massimo dell'impegno, il massimo dell'attenzione e il massimo della tempestività per quanto si possa utilizzare il termine tempestività rispetto a un fenomeno negativo che sta affliggendo la nostra regione, però insomma tutte le risorse umane ed economiche sono sul tavolo e quindi stiamo cercando di intervenire in modo deciso e naturalmente nel rispetto di tutto quello che può essere tutto il nostro patrimonio arborio regionale. Ormai siamo diversi anni che stiamo dietro a questo insetto, abbiamo iniziato qui nelle Marche nel 2013 purtroppo che l'abbiamo avvistato e che pare sia arrivato con dei bancali, pensate dai bancali dall'est, dall'est del mondo. In questi due anni, 23 e 24, si concentreranno la maggior parte degli abbattimenti ma anche delle ripiantumazioni. Gli esemplari individuati nelle tre province marchigiane interessate sono di poco superiori alle 7.000 unità nella Ceratese, circa 3.000 nel Fermano, 2.000 nell'Anconetano, complessivamente 12.000 alberi nelle tutte le Marche. Il tarlo asiatico non comporta alcuna problematica diretta per gli esseri umani. Le piante scavate all'interno del proprio fusto, siamo in presenza di una parassita che si nutre di legno, se non sottoposte al taglio potrebbero tuttavia cedere e di conseguenza creare danni alla viabilità o mettere a rischio l'incolumità delle persone che possono ritrovarsi nelle vicinanze. Problemi diretti questo agente patogeno non li fa all'uomo ma bensì purtroppo il nostro patrimonio arboreo, però da questo punto di vista dobbiamo essere attenti perché poi avere delle piante comunque malate in zone antropizzate è evidente che possono creare dei problemi indiretti e quindi l'attenzione nostra è proprio sulla tempestività dell'intervento, naturalmente su quelle zone che sono nevralgiche perché avere delle piante malate soggette poi a fenomeni atmosferici piuttosto che ad altre situazioni possono poi provocare naturalmente cadute di alberi e insomma tutte cose collegate che sono spiacevoli. Grazie. Grazie.